Le ragioni sono come due chicchie di frumento nascoste in due staglie. Devi cercare tutto il giorno prima di trovarmi e quando li hai trovati. Non valga una ricerca. Tu non ignori, Antonio, quanto io abbia dissestato il mio patrimonio, sfoggiando un tenore di vita più alto di quello che potessi permettermi. E ora non mi lamento di dover rinunciare a tutto, ma il mio maggiore assino è quello di liberarmi con onore dei gravi debiti con cui i miei anni, forse troppo prodighi, mi hanno legato.